Noi lavoriamo con la televisione, la televisione a volte è demonizzata, a volte può essere una grande compagna per passare ore. Quindi io in questo concetto ho intenzione di fare una cosa. Dal momento che vedo che siete tanti e dal momento che penso che la solidarietà sia importante quanto divertirsi in una fiera di fumetti, quindi io volevo dedicare questo pensiero a una persona che mi ha aiutato molto e che è stato molto vicino e volevo proporvi una mini-asta. Molti di voi mi hanno chiesto una maglietta, la maglietta di Sheridan che indosso. Siccome che questa non ve la posso dare perché è un ricordo che mi è stato regalato, io voglio fare un dono a voi, un dono che con un piccolo contributo può aiutare qualcuno meno fortunato di noi e che ha probabilmente più bisogno di attenzioni, più bisogno reale, più bisogno economico. Quindi innanzitutto io ho deciso di donare in beneficenza alla persona che farà un'offerta più vignitosa, più vantaggiosa il mio passi è esclusivo di Sheldon Cooper, un passi che è stato regalato a me, autografato da me. E poi un'altra cosa, a chi farà un'offerta magari molto alta, ho deciso di donare questa cosa. Questa maglietta è originale da Big Bang, è un prodotto originale del merchandising di Big Bang Theory. Siccome che Big Bang è stata la mia fortuna perché fa sentire l'affetto di tutti voi, spero che l'affetto di uno di voi per questa maglietta dia la possibilità a qualcuno di poter essere più felice di una giornata come questa. Se avete intenzione di acquistare questa maglietta e di fare un'offerta, lasciate la vostra offerta nell'info poi in segreteria. L'offerta che verrà fatta più alta sarà quella che mi farà giudicare la mia maglietta esclusiva, autografata da me. Ringraziamento a Leonardo per la storia di chi l'offerta. Quindi mi raccomando le esperte a tempo e posita l'entrata sia per quanto riguarda i passi sia per quanto riguarda la mia maglietta autografata. I proventi verranno sicuramente dati a un'associazione di Unicef che collabora con i bambini del futuro proprio più importante che si trova qui a Salerno. Quindi i proventi verranno assolutamente donati tutti al 100% a un istituto che ha veramente bisogno del nostro aiuto. Grazie Arte del vento Rasen Shuriken Raci, sei seduto sul mio posto. E infine tornato di fuoco!